All'inizio di questo mese molti di voi ricorderanno un posto che ho fatto sul mio canale Telegram. C'era molta preoccupazione per l'acqua e per il fatto di non berla e c'erano certe cose che potevo dire e non potevo dire, facendo riferimento che la vita di certe persone poteva essere in pericolo e una di queste persone è qui con me, ora, il dottor Brian Sono praticamente chiamato il tizio del Rendezivir, ovunque io vada, il che è strano per un chiropratico in pensione come me essere indicato come un farmaceutico, ma è il 21 gennaio di quest'anno, quindi solo due mesi fa, la FDA ha deciso di autorizzare il Rendezivir come unico farmaco da usare in tutti i neonati in questo paese. Saresti andato in ospedale a prendere l'antidoto? E quando l'ho visto mi sono reso conto che dovevo aver visto un'intervista che ho fatto su Infowars con Katie Daly, che voleva esaminare i miei pensieri sui anticorpi monoclonali e, beh, mi erano stati dati alcuni studi di ricerca che in realtà mi turbavano, non mi piaceva l'idea basata sui dati di queste ricerche. Come potrebbero le masse infettarsi da morsi di serpente? Farti una domanda? Certo. Credi che i mass media siano controllati? Sì. Cosa usano il mainstream per controbattere? Disinformazione. Sì, li chiamano fat checkers. Sì, fat checkers. Sì. Il fat checking è l'opposto del controllo dei fatti. Proteine del krait cinese, ovvero il bangaro, e il cobra reale. Nel gennaio 2020 pubblicano uno studio di un'azienda che ha finanziato uno studio di ricerca durato dieci anni, in cui mappano i geni dei veleni, tutti i geni dei veleni, le proteine, i peptidi, all'interno del veleno del cobra reale, e nel gennaio 2020 hanno pubblicato le loro scoperte. Oh, sono rimasto scioccato quando ho visto che erano 19 proteine tossiche isolate dal veleno che colpiscono specificamente gli organi del corpo. Quindi vado alla parte dei finanziamenti di questo studio per sapere quanti hanno finanziato questo studio e dice che la maggior parte dei finanziamenti degli studi provengono da una società chiamata Genentech. Per vedere il documentario completo basta andare su Indice alfabetico e cliccare sulla voce Brian Hardis guarda l'acqua.